YouTube Analytics e le sue tante novità. Nel Creator Studio sono arrivate delle cose nuove di cui vi voglio parlare. Prima però due novità molto importanti riguardo sempre YouTube. La prima, i cambiamenti che stanno facendo sulla home page perché stanno dando la possibilità, soprattutto da mobile, di esplorare i topic per i quali YouTube ci sta raccomandando un video e quindi scegliere gli argomenti principali. Poi ci dà la possibilità di eliminare un profilo che non vogliamo che sia raccomandato e poi ci spiega anche perché ci sta raccomandando proprio quel video. Molto interessante questo perché ovviamente è sempre più attento YouTube dopo i casini successi in questi anni a spiegare come funziona il sistema dei raccomandati. L'altra novità molto importante, intanto mi sto divertendo con OBS, sto registrando con OBS e sguiccio le scene così facilmente, così mostro l'iscrizione al canale e le altre cose. L'altra novità molto importante invece riguarda la possibilità di condividere, scusate, di promuovere le live. Quindi di pubblicizzare le live non solo all'interno di YouTube ma in tutto il sistema pubblicitario di Google. Sta per arrivare, è una funzionalità sicuramente molto interessante per determinate tipologie di utenti e di aziende. Allora parliamo invece delle novità di Analytics, di YouTube Analytics che sono sicuramente riguardano tutti, riguardano, eccola qua, riguardano chi si occupa di, chi si occupa praticamente, mi sposto di qua, è meglio, chi si occupa, ok, cerchiamo di centrare questa cosa qui, sia chi si occupa di consulenze sia per quanto riguarda, ok, per quanto riguarda gli YouTuber stessi. Ci sono delle cose molto interessanti. Abbiamo visto in sviluppo pubblico, ne abbiamo parlato un'altra volta, che è arrivato il numerino degli iscritti che hanno attivato le notifiche, ci dice anche quelli che possono ricevere perché nello smartphone magari sono bloccate. Questa è la prima cosa che sicuramente dovete andare a guardare perché dà un indice molto importante della propria community. Ma l'abbiamo già trattata. Andiamo a vedere che cos'è che invece c'è di nuovo. Innanzitutto nella fidelizzazione del pubblico del singolo video, quindi quando entrate nel video dati e analisi, rifacciamo il passaggio, chiudiamo, va, l'ho aperto, ma in realtà è meglio fare così. Quando siamo in dati e analisi del singolo video, in spettatori interessati, eccolo qua, abbiamo fidelizzazione del pubblico, fate mostra di più. Che cos'è che ci mostrava di solito solo la fidelizzazione del pubblico normale? Oggi è arrivata finalmente quella che c'è nel vecchio, la fidelizzazione relativa. Vedete, sopra la media, sopra la media, eccetera, eccetera. Ecco, lo aspettavamo nel nuovo Creator Studio, bene, sappiate che è arrivato. Dopodiché, nel singolo video è possibile passare facilmente, hanno messo finalmente questa cosa qui, agli altri video del canale. Quindi se siete in un... facciamo l'esempio che siete in... non lo so, clicchiamo qui, è tutto molto rallentato. Clicchiamo su stato dell'iscrizione, per esempio, eccolo qua. Se voglio passare da questo video ad un altro, oggi è molto più facile tramite un semplice click. Uno dei problemi del Creator Studio è appunto l'usabilità di queste cose che, insomma, lo stanno migliorando. Hanno messo subito lo switch anche tra il grafico a linee e il grafico a barre, perché per determinate cose è più interessante, ovviamente, il grafico a barre e la possibilità subito di andare non solo nei video, ma nei gruppi di video. Quindi facilmente posso andare a vedere i video e i gruppi di video. L'altra cosa a livello di interfaccia che mi risulta nuova è questa, la possibilità di confrontare un video con un altro. Eccolo qua, vediamo se lo mostra. Ovviamente questo è stato pubblicato non negli ultimi 28 giorni, quindi proviamo a mettere ultimi 90. Vediamo se mi becco qualcosa. No, dovrei andare ancora un po' più indietro, ma cambiamo video, che è più facile. Eccolo qua. Quindi vado a cambiare video e abbiamo il confronto tra i due video. Che è... perché mi esce... ah, perché addirittura... Eh, proviamo a fare questa cosa. Vabbè, non è un problema. Mi esce... ah, giorno 1, ok, ok. Vabbè, non è un problema. Quindi io posso andare a verificare video per video, periodo per periodo, tutti i vari confronti che posso fare dedicati alle varie sorgenti e alle varie cose. E' molto interessante il confronto dei periodi, dei gruppi, eccetera, eccetera, perché ci consente di entrare nel dettaglio di quelle che sono le analisi. L'altro pannello che è migliorato molto è quello che vi mostra le informazioni in tempo reale. Le informazioni in tempo reale non solo delle ultime 48 ore, ma anche degli ultimi 60 minuti, e non hanno messo solo i 5 video più popolari, ma ne hanno aggiunti tantissimi. Per i canali grandi è una cosa molto, molto importante. Questo l'abbiamo visto. Queste sono tutta la possibilità... ok, ci siamo. Da dov'è che si arriva al... lo rifacciamo. Invece al tempo reale ci si arriva. Andiamo su YouTube Studio. Ok, quando voi siete nella vostra home di YouTube Studio, basta cliccare su dati e analisi. Su dati e analisi vi compaiono tutti i vari menu. Allora, attendiamo un attimo perché si è rallentato un po' il sistema. Forse è meglio se chiudo qualche tab. Ok, ne ho aperto un po'. E che ho altri Firefox sotto, praticamente. Quindi andiamo in dati e analisi. Vedete? Attività in tempo reale. Questo sul singolo video. Potete vedere come sta andando il singolo video. Oppure, genericamente, ok, tutto il canale. Vediamo se è diventato un po' più veloce rispetto a prima. Quando si aprono tante tab e tanti Firefox o qualsiasi altro browser, ogni tab occupa uno spazio di memoria. E quindi più tab aprite, più la RAM rallenta tutto perché è occupata. Quindi mostra di più, vedete, da qui. E vi beccate la visualizzazione, insomma, del tempo reale. Io credo che il Creator Studio stia facendo dei passi in avanti, ma anche dei passi molto importanti. Quindi sicuramente qualcosa da tenere sott'occhio. Sono molto scettico perché sono lenti. Anche se nell'ultimo mese che hanno fatto queste modifiche sono uscite più modifiche. Quindi magari sono arrivati al regime e ora riescono a fare tutto. La cosa che in realtà mi preoccupava erano alcune funzionalità come la fidelizzazione relativa. Ho detto, cavolo, vuoi vedere che non la portano perché la usano in pochi. Invece questa cosa non è così perché l'hanno portata. L'altra cosa che mi preoccupa sono i dati perché nel creator vecchio ci sono molti più dati. Speriamo che, insomma, riescano ad aumentarli. Insomma, questo è tutto. Fatevi sapere se avete domande o volete approfondire qualcosa su YouTube Analytics o sul Creator Studio che lo faccio volentieri. Volevo mostrarvi questa panoramica di cose perché secondo me è molto interessante da sapere. Domani parliamo invece del community management, del community manager. A domani. PINeggio PINε Grazie a tutti